C'è stato il concerto di Mahmood in Calabria, precisamente a Roccella Ionica, e pensate che durante uno dei suoi concerti in loco, un fan ha messo un cartello in cui diceva di avere con sé ben un chilo di induglia, questo tipico salume o affettato, tipico proprio della regione Calabria. E poi il famoso cantante milanese per eccellenza, diciamo che lo stesso Mahmood sembra che abbia visto il cartello e addirittura avrebbe urlato, beh, quando tornerò a Milano sarò un 2. Va bene? Insomma, sembra che abbia accettato molto bene questo caratteristico alimento tipicamente calabrese e ha rivelato il peso dell'anduglia, quasi un chilo, o meglio, 700 grammi, quasi un chilo. Va bene? Insomma, i fan vogliono bene a Mahmood e chi può si presenta con Mahmood con qualche piacevole, non più garbato regalo, come nel caso di specie. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'avvisore di questo video di oggi, utenti di YouTube, chiaramente questo video non vuole vedere le brasi di Mahmood né di altre persone, ma solo informare Stop nasce infatti per questo motivo, non per altri motivi. Complimento a grande Mahmood.